Alerta meteo, anche oggi scuole chiuse a Caltanissetta. Direzione investigativa antimafia, confiscati beni per 750 mila euro a un imprenditore. Controlli dei carabinieri nel Nisseno, tre segnalati all'autorità giudiziaria, sequestrati un coltello e 13 grammi di sostanze stupefacenti. Real Mestranza, eletto il portabandiera dei panificatori, la categoria che comprende pasticceri e cuochi, ha scelto anche l'alabardiere e il portabaldacchino. Calcio, eccellenza, domenica la Nissa in trasferta sul campo della Mazzarese. Basket serie D, invicta e impegnata a Capodorlando. I Nisseni puntano all'ennesima vittoria. Ben trovati. Allerta meteo, anche oggi scuole chiuse a Caltanissetta. Con una nuova ordinanza emessa nella serata di ieri, il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, ha ordinato la chiusura anche per venerdì 10 febbraio, delle scuole di ogni ordine grado, delle ville e parchi pubblici e il cimitero. Il comune raccomanda ai cittadini di mantenere prudenza negli spostamenti e di non sostare in prossimità di aria a rischio. Il bollettino meteo dinamato nel pomeriggio di ieri dal Dipartimento regionale di protezione civile prevede anche la giornata odierna il livello di allerta arancione, per rischio meteo idrogeologico e idraulico con previsione di forti temporali e rovesci, anche a carattere nevoso sopra i 500 metri di altitudine. La prefettura, già dal pomeriggio di ieri, è in costante contatto con i sindaci di tutto il territorio provinciale al fine di monitorare le condizioni medio. Sono stati preallertati i centri di coordinamento comunale al fine di assicurare una pronta attuazione delle misure previste nelle pianificazioni di emergenza. Il prefetto ha rinnovato l'invito alla popolazione ad adottare massima prudenza negli spostamenti ed evitare di uscire di casa se non strettamente necessario. Per il maltempo intervento della polizia sulla statale Gela Vittoria in prossimità di un fiume. La sezione della polizia stradale di Caltanissette è stata impegnata nel territorio di Gela coordinando le operazioni di viabilità della zona deviando il traffico veicolare in direzione Niscemi e quanto si apprende attraverso i social dalla questura nissena. Il maltempo è infatti creato disagi sulla strada statale 115 Gela Vittoria poiché a causa delle forti piogge stamattina si legge nel post esraripato il fiume di Rillo invadendo la carreggiata della strada statale 115 Gela Vittoria al chilometro 282 nel territorio di Gela. Due gli equipaggi della polizia stradale intervenuti sul posto, un appartenente al distaccamento di Gela e uno di Vittoria. E mentre il post si conclude con una raccomandazione da parte della polizia stradale per chi deve necessariamente mettersi in viaggio nonostante il maltempo e cioè guidare con massima prudenza, si fa anche riferimento a ciò che era accaduto ad un'auto che stava transitando in quella strada che è stata travolta dal forte flusso dell'acqua ed è rimasta bloccata, si precisa ancora nel posto della questura nissena. Fortunatamente gli occupanti sono riusciti a mettersi in salvo. Direzione investigativa antimafia, confiscati beni per 750 mila euro a un imprenditore. La direzione investigativa antimafia ha dato esecuzione a un provvedimento di confisca definitiva di beni emesso dal Tribunale di Caltanissetta nei confronti di un imprenditore ritenuto contiguo a un noto clan facente capo a Cosa Nostra di Gela. La sua pericolosità sociale, presupposto dell'applicazione di una misura di prevenzione, era stata evidenziata nel corso dell'attività investigativa dell'operazione Extra Fines Druso, che nell'ottobre del 2017 ha portato al suo arresto per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Gli accertamenti effettuati avrebbero messo in evidenza un anomalo incremento di ricchezza dell'imprenditore stesso rispetto alla dichiarata posizione reddittuale, risultata sproporzionata in rapporto al consistente patrimonio finanziario ed immobiliare da lui accumulato negli ultimi decenni. La confisca ha riguardato quattro immobili tra fabbricati e terreni, situati in Basilicata e Molise, due società di capitale, tre impianti di produzione di energia rinnovabile da fonte eolica a Campobasso e a Potenza, una partecipazione societaria, due auto e diversi rapporti bancari per un valore stimato pari a circa 750 mila euro. Nei confronti del soggetto, inoltre, è stata disposta la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di due anni. Controlli dei carabinieri nel Nisseno tre segnalati all'autorità giudiziaria. La sicurezza del territorio continua a essere la stella polare dell'attività delle forze dell'ordine, tesa a garantire la tutela dei cittadini. In questo contesto, negli ultimi giorni, è stato intensificato il servizio di controllo da parte dei carabinieri di Caltanissetta, nel corso del quale sono stati verificati 103 automezzi, elevate 12 contravvenzioni al codice della strada, ritirate due carte di circolazione e una patente, identificate 195 persone, sequestrate un coltello, 3 grammi di marijuana e 10 grammi di hashish. Inoltre, sono stati deferiti all'autorità giudiziaria una ragazza di 35 anni per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina. L'auto è stata sottoposta a sequestro amministrativo e la patente di guida della donna è stata ritirata. Un 25enne per evasione dagli arresti domiciliari è stato trovato fuori dalla propria abitazione senza autorizzazione e un 48enne per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. È stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama a punta della lunghezza di 20 centimetri. Nel medesimo contesto, sono stati segnalati alla prefettura di Caltanissetta tre persone che detenevano per uso personale hashish e marijuana. Il comune di Caltanissetta avvia interventi di manutenzione in diversi istituti scolastici. Sono già iniziati gli interventi di manutenzione negli istituti scolastici nisseni da parte del comune di Caltanissetta. I lavori già avviati e in alcuni casi completati e quelli da avviare riguardano soprattutto l'impermeabilizzazione dei tetti per evitare le infiltrazioni, così come ci spiega l'assessore ai lavori pubblici, Marcello Frangiamone. I lavori di manutenzione delle scuole, ma i lavori straordinari per le scuole cittadine sono già iniziati da qualche tempo e abbiamo concentrato le attività principalmente su quelle che sono le problematiche legate alle infiltrazioni, soprattutto il rifacimento e sistemazione di guaine impremiabilizzanti e altro. I lavori già eseguiti sono sulla scuola materna della Real Maestranza, abbiamo effettuato già degli interventi sul tetto della scuola Angeli del plesso della Vittorio Veneto e anche la materna di Santa Barbara. Procederemo a breve anche poi prossimamente sulla Don Milani, su altre scuole, per esempio la Filippo Cordova e così via, in modo tale da fare in modo di risolvere queste problematiche legate a infiltrazioni, a rotture della guaina che nel tempo si sono verificate e sono sempre state riparate però con attività, diciamo così, con interventi tampone, mai con un intervento chiaro e completo su tutto il tetto. Altri interventi sono legati agli interni proprio dei bagni delle scuole, stiamo facendo una revisione completa di tutti i bagni di tutte le scuole perché molti servizi igienici, lavabbi, eccetera, erano rotti e quindi avevano necessità di essere sistemati o ancora molte linee di deflusso delle acque, le fognature interne, eccetera, erano parzialmente ostruite perché magari nel tempo sono stati buttati oggetti impropri all'interno, eccetera, e quindi necessitavano di una pulizia sia i pozzetti sia anche le colonne di scarico delle scuole stesse. I lavori di manutenzione rientrano all'interno di un accordo quadro. Quindi si tratta di un appalto di 120.000 euro che vedremo di spendere, diciamo, appunto con queste manutenzioni per fare in modo che questi problemi non possano sorgere più. La gara è stata fatta, diciamo, alla fine del 2022 e i lavori partiti appunto alla fine del 2022 si stanno protraendo anche in questi mesi. I soldi per le manutenzioni scolastiche non bastano mai perché chiaramente essendo un patrimonio abbastanza complesso che viene vissuto e abitato, diciamo, quotidianamente necessita sempre di molti interventi. Io mi auguro che il prossimo bilancio possa aggiungere delle somme a quelle che già aveva messo, diciamo, nel bilancio precedente perché sarebbe importante dare ai nostri ragazzi, eccetera, delle scuole che siano a pieno delle loro potenzialità sia dal punto di vista organizzativo sia anche dal punto di vista infrastrutturale. Covid, bollettino settimanale in Sicilia, ancora in calo le nuove infezioni. Continuano le buone notizie per quanto riguarda la presenza del Covid-19 in Sicilia. Nella settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio si è registrato ancora un netto calo delle nuove infezioni. La media di nuove positive è di 50 casi ogni 100.000 abitanti. Il tasso di positività più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Siracusa, Messina e Palermo. Secondo i dati contenuti nell'ultimo bollettino settimanale a cura dell'assessorato della salute della regione siciliana, le nuove ospedalizzazioni sono in diminuzione. L'epidemia rimane in una fase delicata con un livello ancora significativo di diffusione virale, ma con una ricaduta sulle nuove ospedalizzazioni più contenuta rispetto ai periodi precedenti. Per quanto riguarda la campagna vaccinale nell'isola, i dati sono aggiornati al 7 febbraio. Nella fascia dei 5 agli 11 anni, i vaccinati con almeno una dose sono il 23,69% della media regionale. Sono il 20,36% i bambini che risultano vaccinati con ciclo primario completato, mentre le persone che hanno completato il ciclo primario risultano essere l'89,59%. In particolare, i vaccinati con la dose booster sono il 72,38% degli aventi diritto. In Sicilia sono state effettuate complessivamente 240.503 somministrazioni di quarta dose, di cui 211.704 a soggetti over 60 e 8.824 quinte dosi. Vogliamo il collegamento tra le vie Romita e Rochester. I promotori della petizione popolare raccolgono 850 firme e chiedono l'accelerazione dell'iter per la realizzazione dell'opera. Temono che possa andare perduto il finanziamento, visto l'approssimarsi delle scadenze per l'iter che porterà alla realizzazione della strada di collegamento tra la via Romita e la via Rochester e gli architetti Giancarlo Larocca e Mauro Fornasero, nonché i promotori della petizione popolare che chiedeva tale collegamento. Si ricorda che il Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, scrivono i due architetti, in data 30 dicembre 2021 ha ammesso e finanziato il progetto per i lavori di realizzazione del collegamento viario e ciclabile dalla via Romita alla via Rochester per un importo di 4 milioni e 800 mila euro. Esprimiamo un po' di preoccupazione per la realizzazione dell'opera in quanto è stata già bandita la gara per il rilievo, è già stato espletato, ma resta ancora la parte più importante che l'affidamento del bando di gara, che deve essere effettuato necessariamente entro il 30 settembre di quest'anno, il 2023, e dentro il marzo 2024 dovranno essere realizzati almeno il 30% dei lavori complessivi. Sappiamo bene che deve essere una cosa che deve avere un'urgenza assoluta, in quanto rischiamo di non arrivare a realizzare queste cose e quindi di perdere il finanziamento, per cui noi sollecitiamo all'ministrazione comunale affinché si metta in atto questo bando di gara necessario poi per la realizzazione dell'opera e a quanto pare la tendenza è quella di realizzare un appalto integrato per cui verranno direttamente affidate all'impresa giudicataria anche la realizzazione dei lavori. E tra le scadenze che vengono indicate, i due architetti fanno riferimento anche a quella conclusiva, il termine finale entro il quale dovrà essere trasmesso il certificato di collaudo rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, aggiungono, è il 31 marzo 2026, in linea con il termine di conclusione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Festa della Madonna di Lourdes, giorni di preghiera a Santa Croce. Sono giorni colmi di preghiera nella parrocchia Santa Croce che celebra la festa della Madonna di Lourdes. Si conclude oggi infatti l'ottavario cominciato il 3 febbraio, prevedendo il Santo Rosario intorno alle 17.15 e a seguire la Santa Messa con l'Omelia Mariana. Il 10 febbraio viene anche celebrata Santa Scolastica, patrona delle Suore Benedettine. L'11 febbraio, giorno in cui si ricordano le apparizioni della Madonna Bernadette proclamata Santa nel 1933, si susseguiranno quattro celebrazioni a partire dalle 8.30 fino alle 11.30 e poi alle 12.30 ci sarà la supplica alla Madonna di Lourdes. Mentre nel pomeriggio due le celebrazioni, una alle 16.30 e alle 18 la Santa Messa Solenne con la benedizione delle famiglie. L'11 febbraio è anche la giornata mondiale del malato, infatti anche a loro sarà dedicata una preghiera. Infine verrà effettuato un sorteggio per l'assegnazione di tre madonnine. In passato la tradizione della parrocchia prevedeva una processione che però è stata sospesa durante la pandemia e non ancora ripristinata. La festa della Madonna di Lourdes è legata alle apparizioni della Madonna, spiega il parroco padre Pietro Riggi, che a sua volta ci richiamano quello che il Papa Pio IX ha fatto nel 1854, cioè ha proclamato il dogma dell'immacolata concezione. In questi giorni in parrocchia viene raccontata la storia, ma si fa riferimento anche ai messaggi. Il messaggio della Madonna di Lourdes ci richiama il paradiso, racconta padre Pietro Riggi, perché la Madonna ci dice che tutti dobbiamo essere davanti al Signore, Santi e Immacolati nell'amore. E quindi il messaggio di Lourdes sottolinea un dogma, una verità di fede, aggiunge che l'esistenza del paradiso è l'orientamento della vita dell'uomo su questa terra, che deve essere per la sua maturazione. Real Maestranza ha eletto il portabandiera dei panificatori. La categoria che comprende pasticceri e cuochi ha scelto anche l'alabardiere e il portabaldacchino. Manca ormai poco all'inizio della Pasqua e fermano infatti i preparativi per la settimana Santa 2023. Intanto la categoria dei panificatori, pasticceri e cuochi della Real Maestranza ha proceduto all'elezione dei propri rappresentanti in vista delle prossime processioni. La categoria, preseduta da Antonio Domenico Matteo Amico, si è riunita in assemblea nei locali della Chiesa San Pietro, in presenza dell'assistente spirituale, padrerino dell'ospedale Alongi. Oltre ad avviare la macchina organizzativa dei riti pasquali di quest'anno, sono stati eletti il portabandiera, l'alabardiere e il portabaldacchino. Rispettivamente i maestri Ghetano Araceli, classe 87, figlio del maestro Angelo Araceli, Salvatore Salerno, classe 77, primo pasticcere a ricoprire una carica ufficiale all'interno della categoria e Giuseppe Salamanca, classe 88, che invece in passato ha già ricoperto diverse cariche all'interno della stessa. Quattro nuovi tecnici in casa Nissa Rugby, corso di primo livello per Cristian Severino, Michele Palumbo, Francesca Sardo e Marco Castellano. Quattro nuovi tecnici in casa Nissa Rugby, quattro nisseni di cui tre già atleti della società di Caltanissetta che hanno scelto di ampliare la loro conoscenza della palla ovale e di metterla al servizio della compagine del presidente Giuseppe Lo Celso. Cristian Severino, Michele Palumbo, Francesca Sardo e Marco Castellana hanno conseguito il titolo durante il corso in presenza che si è svolto sabato 4 febbraio nella club house della Nissa Rugby al Marco Tomaselli di Caltanissetta, tenuto da Giuseppe Berretti, tecnico regionale responsabile didattica FIR. I quattro hanno ottenuto il corso di primo livello e potranno allenare i giocatori dai 7 ai 13 anni. Nello specifico, Marco Castellana, laureato in scienze motorie, si occuperà del reclutamento nelle scuole. Francesca Sardo affiancherà il tecnico Sonia Orlando nel progetto Nissa Rugby Kids, Michele Palumbo e Cristina Severino si occuperanno della categoria Under 9 fino a 13. A partenco alla Nissa Rugby da quando è nata praticamente, prima come giocatore e oggi anche come tecnico, proprio perché mi piacerebbe trasmettere i sani principi che ha la società nissena e i valori del rugby in generale. Come obiettivo mi prefisso di dare nel mio piccolo tutto ciò che conosco del rugby giocato, ma soprattutto di trasmettere a questi giovani giocatori la voglia di crescere nello sport, lo stare insieme e far parte di un gruppo, ma soprattutto sentirsi importanti all'interno del gruppo stesso e poi fondamentalmente farli divertire. Per questo motivo ringrazio la società nissena che mi ha fatto crescere come atleta, come giocatore e anche come persona prima e che mi ha dato l'opportunità con la miglior formazione possibile di diventare un buon tecnico in futuro. Spero che vengano sempre più ragazzi a conoscere la nostra realtà, anche perché le porte della Clubhouse del campo sono sempre aperte. Calcio Serie D, domenica la San Cataldese ospiterà il Castrovillari alla Valentino Mazzola. Dopo la preziosa vittoria in trasferta contro la Cireale, la San Cataldese si avvicina alla sfida di domenica prossima, 12 febbraio, quando allo stadio Valentino Mazzola arriverà il Castrovillari, reduce dalla sconfitta in casa per mano della capolista Catania. Per la squadra di Pietro Infantino, una partita da non sbagliare contro un avversario in piena lotta per la salvezza e alla ricerca di punti per esorcizzare la zona calda della classifica. Intanto in settimana l'allenatore Verdamaranto Infantino, ai microfoni della Sicilia, ha ribadito l'importanza di mantenere sempre alta la concentrazione, perché dobbiamo fare più punti possibili. Ci attendono tante gare difficili, ha detto, contro le squadre migliori di questo torneo. È un campionato complesso e fino a quando non arrivi ai 40 punti a concluso Infantino non ti puoi mai considerare salvo. Questa è la ventitresima giornata del campionato di Serie D, Girone I, in programma domenica 12 febbraio. Alle 14.30 Catania Mariglianese, Santa Maria Cilento La Mezzia Terme, Realla Versa Cireale, San Luca Città di Sant'Agata, Vibonese Locri, mentre con calcio di inizio alle 15, Trapani Canicattì, Ricata Paternò, Ragusa Cittanovese e San Cataldese Castrovillari. Ancora calcio eccellenza, Nissa in trasferta sul campo della Mazzarese. Dopo la sconfitta bruciante di domenica in casa contro il Profavara, la Nissa scenderà in campo domenica al Nino Vaccara di Mazzara del Vallo, per affrontare i padroni di casa della Mazzarese. I biancoscudati hanno giocato una buona gara contro la formazione favarese, avendo tante buone occasioni, ma non riuscendo a finalizzare in porta. Da analizzare anche il calo dei minuti finali, dove sono arrivate le ultime due sconfitte interne contro l'Akragas e il Profavara. Dunque, gli uomini di Alessio Sferrazza vorranno dire la loro in un match alquanto ostico e difficile, contro una squadra reduce dal derby contro il Mazzara pareggiato a reti inviolate. Intanto, causa maltempo, la Nissa è stata costretta a rinviare l'amichevole che doveva disputarsi giovedì al Tomaselli contro la rappresentativa regionale Juniores Sicilia. Basquet Serie D, l'Invicta si prepara alla partita in programma a Capodorlando. I Nisseni puntano all'ennesima vittoria. Con la testa ormai proiettata verso il play-off, l'Invicta continua nel suo campionato dei record, dove nel fine settimana affronterà la lunga trasferta di Capodorlando contro la Capobasket. Squadra imbattuta nel suo parquet nel big match della tredicesima giornata, dove andranno di scena le prime due della classe. I ragazzi del coach Giuseppe Spena vogliono continuare nel loro trend di risultati positivi e macinare punti su punti. I numeri dell'Invicta parlano di dieci vittorie consecutive in campionato e a due giornate dalla fine della stagione regolare, la squadra nissena vuole continuare a vincere e stupire, Capobasket permettento. Basket Serie D, girone B, tredicesima giornata. Capobasket Invicta. Zannella Cefalù, basket Messina. Sant'Agata Virtus Trapani, riposa Leonardo Da Vinci. Volley, l'Alba Verde Caltanissetta torna al Palacanizzaro e vuole l'intera posta in palio. Dopo il K.O. di Reggio Calabria subito dalla Region, l'Alba Verde per la seconda giornata di ritorno del girone M della Serie B2 femminile, ritorna tra le mura amiche del Palacanizzaro, affrontando sabato alle 18 la Bricositi. Settimana turbolenta in casa nissena, dove si è aperta una crisi tecnica con le dimissioni del duo Scollo-Gotte, immediatamente respinte dalla dirigenza nissena. È un duro faccia a faccia che è diventato un richiamo al senso di responsabilità e appartenenza di un gruppo che è nato per disputare un campionato di vertice e a cui è stato ribadito il raggiungimento del play-off. Sabato, le pallavoliste nissene affronteranno un avversario sulla carta abbordabile, anche se bisognerà verificare le scorie mentali che avrà lasciato l'ultima trasferta. E tutto, vi lascio al meteo e alle informazioni di pubblica utilità. Grazie per l'attenzione e appuntamento rinnovato alle prossime edizioni. Ben trovati in un aggiornamento con le previsioni per la giornata di sabato, quando un campo di alta pressione sarà in rinforzo sull'Europa centro-meridionale, sensibile miglioramento quindi anche sulla Sicilia dopo i forti eventi di maltempo. Nel dettaglio possiamo notare quindi ampie aperture del cielo dappertutto, una bella giornata di cieli sereni o poco involosi. Mappa precipitazioni ci conferma l'assenza di pioggia dappertutto, ma anche la successiva grafica ci fa vedere come splenderà il sole da nord a sud su tutte le nostre regioni. Il freddo di notte rischio ancora gelate al centro-nord anche in pianura, massime invece in lieve aumento. Tutti i dettagli precisi scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo. Servizi di pubblica utilità. Farmacie di turno. Caltanissetta. Servizio diurno. Centrale. Corso Umberto. Servizio notturno. Scarantino. Via Paolo Emiliani Giudici.